Tra poche ore all'hotel della Villa si terrà un nuovo incontro per la vertenza Ipercop. Si tratta di un vertice importante e fondamentale per il futuro dei 138 dipendenti che da 54 giorni sono in presidio fisso all'ingresso dell'ipermercato di via Pescatori. Nella tenda continuano ad alternarsi i lavoratori che continuano a portare avanti la propria battaglia a difesa del posto di lavoro. Quello di oggi sarà un confronto serrato con l'azienda che dovrà fornire risposte definitive dopo mesi di incertezze e sofferenze. La speranza dei lavoratori è legata allo spiraglio che si è aperto in occasione della prima riunione dell'esame congiunto, ossia alla possibilità di una riorganizzazione in grado di salvare i posti di lavoro. Praticamente si potrebbe ricorrere al franchising, possibilità però rispedita al mittente nelle scorse settimane quando si era fatto avanti il gruppo Z per rilevare il punto vendita. Ora si riapre la trattativa con il gruppo calabrese? In caso di fumata nera ci sono altri interessati all'ipercop di Avellino? O ipercop vuole realmente percorrere la strada degli incentivi per aiutare parte dei dipendenti ad andare in pensione o ricorrucarli in altri centri? Oggi è il momento delle risposte chiare perché non è più possibile rinviare la questione. Ai lavoratori non si può più chiedere di aspettare. Queste persone hanno il diritto di conoscere quale futuro li aspetta e il dovere di parlare chiaro anche alle proprie famiglie. Ora basta, bisogna dire in maniera definitiva cosa ne sarà dell'ipercop di Avellino e dei suoi dipendenti.